Ecco qua ragazzi, allora per prima cosa inizio struccandomi con i maxi dischetti di cotone e l'acqua micellare di Garnier. In questo caso utilizzo quella con il tappo verde che ha l'azione rinfrescante, ma utilizzo tranquillamente anche quella rosa per pelli sensibili, credo di ricordare. Vado insomma con il dischetto grande da ogni lato del dischetto per occhio e vado ad insistere bene tra le ciglia perché io utilizzo veramente tanto mascara. Una volta struccati bene gli occhi, prendo un altro dischetto, sempre con la stessa acqua micellare e vado a rimuovere il make up dal viso, stando attento ad andare bene sia sul viso che sul collo. Dopodiché lavo il viso con l'acqua e il detergente di Fence Tolerance di Nike Cosmetics, quindi appunto asciugo il viso e vado con il dermaroller. Durante tutta la settimana io utilizzo il dermaroller solo sulle zone critiche, sulle zone dove ho delle cicatrici o dei rossori di vecchi brufoletti, vecchio acne. Una volta appunto che ho passato il dermaroller vado sopra con i sieri, il siero contorno occhi e il siero viso. Il siero contorno occhi, vi lascio la schedina perché è un prodotto di cui ho già parlato e per quanto riguarda il siero viso invece è un prodotto che sto testando. La marca è la Serium e è un prodotto molto valido ma ve ne parlerò in seguito. Una volta che il mio siero si è asciugato vado a lavare i denti e poi vado a pulire il dermaroller sempre con dell'alcol. Quando ho finito tutto questo e il siero si è asciugato proseguo con l'ultimo step che è la crema viso. Sto testando anche di questa della marca Serium che vi farò presto una review. E questo è tutto.